In marzo del 2013, in seguito alle annunce dell'Everendo Don Roberto Arcana, l'ufficio di paroco della parrocchia d'Atevergine del Rosario di Vortida, Su'Escendenza, Monsignor Siavassano Sanguinetti, all'Inestratore Apostolico della Dioce Sidozieri, ha provveduto alle seguenti nomine. L'Everendo Don Mario Curzu è stato ordinato all'Inestratore parrocchiale della Parrocchia d'Atevergine del Rosario di Vortida. L'Everendo Don Mario Bonsalda è stato nominato il vicario cooperatore con delega d'Ombia e l'attività pastorale della stessa parrocchia. Ossiedi il 2 marzo del 2013, Giacobbino.